Allora, ma se ci voglio un giorno... Allora, potremmo dire il stesso gioco, eh? Che? Che? No, rega, montacci voce, monta la mano! No, rega, montacci voce, monta la mano! Cazzo, hai son live, volete? Sì! Sì, sono live! Sì, sono live! Dando... Sì! No, aspettate, che aveva la voce... Allora, così non ci senti, stavolta? Beh, ma figurati! Non consentire, stavolta, non ci potrebbe sentire! Consenti per i fatti correnti, non ci senti... Ma ci senti da live la voce mia, credo? Sì! Ah, non lo so! Io non lo sto controllando! Sì! 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 Non è mica colpa tua! Eh... Non lo so! Penso che ci siano delle impostazioni nella chat per togliere l'audio! Perchè è timida! Perchè è timida! Ma dai! Non so, senti! Aggiungere tutti mera mera! Ma tutti mera mera! Scusate, non io non capisco! Scusate, non piace! Non piace! Sì! 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 Chi è questo giovine? Io! Eh! Sono un ragazzo! Sì! Sì! Chi è questo giovine? Io! Eh! Sono un ragazzo! Ah, ok! Sì! Io vorrei joinare ma non posso! Perchè non mi fa entrare! Ciao fra, ciao mamma! Perchè siamo rustici? Sì! 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 Ma se ne stavo bisogno a una live tua, non so di scappare perché ho risposto a suonare! Chi è che me lo dice? Se si sente? Io, io sento tutto il grande dottore! Si senti! Ma neanche io sento il dottore! Aspetta! Tipo ciao! No! Si è bloccato il pad! Ma a me non fa neanche giocare! Beh, ti sei bloccato il gioco più che il pad! Ok! Sbloccato! No, no! Si è bloccato! Ma a me! Stavia! Ma mi sa... Mi sa che i server sono andati! Perchè qui non mi trova neanche la partita! we server can! no a me non trova proprio neanche una partita a caso capito oh ecco io sono in partita non c'è nessuno di voi però credo ah Endor non l'avevo ancora mai visto Endor ma voi avete mai giocato a Endor? è pianeta Endor nell'assalto dei walker non avete mai giocato voi? ah ecco mi ha impazzito il gioco cioè mi fai gli scherzi sì ma non ha senso mi ha detto partita Endor poi mi è casciato il gioco va bene eh appunto non aveva senso ma il gioco è impazzito fra dove sei che vengo da te? ma ti ho tra gli amici? mi sa di no perché credo che ti vedrai online io dovrei entrare se magari ci facciamo ciao mal che è isso ma io ci provo ma non funziona che serve di merda peggio di Ubisoft eh infatti chi è che è partito? chi devo gioinare? ma signore è terrificante sta cosa è terrificante sta cosa insomma se io trovassi una partita qualsiasi sarei contenta ma non trovo nessun tipo di partita zero no non riesco neanche ad entrare stavo provando ad entrare da boss ma da boss? da boss big boss oddio Endor ci sono anch'io su Endor che è la mappa che non c'è vedrai che adesso ti crasha oddio stavo aspettando tipo d'anno e adesso davvero? sì vabbè ma non si può sentite ma se faccio se faccio una survival forse qualcuno riesce ad entrare magari prova anche se fa schifo partner invito chi invito? chi è che non sta facendo niente? io tutti proviamo con Doctor Who c'hai anche ragione c'hai ma Malchis però veramente stamattina riusciva ad andare ma la mattina forse è meglio alla mattina è meglio perché non ci sono i giappo e gli americani ciao Mauro no ma non credo che ti senta sei tolto la chat no no si sente ah si sente ah ok doc non riesce a gioinare prova a invitare Luca nooo la persona non è più disponibile perché ma chi? a me mi è uscito il gioco allora prova a entrare a te cioè se non c'è sì ma a me non dice join dice solo vedi profilo me che palle ma che? ma perché dice che sto a rank 3 e a 5 ancora ma c'ha come un dietro schifoso ma ancora non ha è una cosa incredibile capisco che è una beta ma se si devono preparare un attimo perché se non funziona neanche la beta figurati il gioco intero poi quando esce veramente sì vabbè che mettano qualche server in più cioè non possono sperare di fare un gioco online senza server eh sì oh raga che vi devo dire andiamo a giocare a code cioè ciao Mauro sì sì stream ma non me lo ricordo io Mauro era di multiplayer ha un altro nick su multiplayer boh ma hai sentito nominare sai ciao teschio sto salutando la gente della mia live cioè della live di niente perché in realtà non sto giocando a niente in questo momento siamo tutti sì sì ma hai capito ma hai capito che mi sentito vero? sì ho capito infatti stavo a sedere vabbè 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 mi fa un po' basta che cerchi su twitch e mi trovi live non mi ricordo non mi ricordo Mauro però vabbè ma non funziona cioè che cosa ci sto a fare come non c'è cerca su twitch sì che c'è cerca su twitch non dirmi che non c'è cerca su twitch ti prego è un'applicazione fallimentare perché non c'è la modalità di ricerca no no come non c'è con la k ah devi cercare persone perché probabilmente adesso sei su su canale tipo sì vabbè ma non funziona ragazzi cioè che cosa devo dirvi giocherò da sola sì ma mi scasso anche mi scasso anche le palle però ciao Luca cioè ma tu sei in chat perché ti saluti da solo no ero lì che diceva ciao Luca ehi ma Luca è in chat cioè eh vedi invece Bello funziona un quarto del suo del suo potenziale in questo momento sì ma mio Dio cioè mezz'ora per una partita 40 minuti per una partita di un quarto d'oro mio Dio vabbè molto più sci si è perduta ma soprattutto perché che problema c'è se ti sentono ma perché c'è la voce brutta sei antipatica qual'è il problema perché ti senti brutta parla solo parla solo qui sì è una merda nel senso che non ci sono i server ma Dio cioè un gioco online metteteci i server signore e volete 70 euro io ormai sono partita in singolo perché ho dato forfè cioè 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 magari no cioè se ci mettono ma se ci mettono una bella fase di storia comunque anche nel singolo può essere che sia un po' meglio cioè se ci mettesse un singolo con sì beh perché c'è solo quello credo ma è graficamente spettacolare però come il gameplay vabbè che a me gli online non piacciono cioè però mi sembra un po' ripetitivino eh sono nella merda un quarto d'ora a fare sta cazzo di coda chi? chi? chi è entrato? dove? quando? dai fai a me entrare mi dà solo view profile eh ma ci sto provando ma non ah devo uscire? qui ea lasciate perdere star wars tornate a fare mass effect che è meglio sono entrata anche io? no vai vai join join vai 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 ma meno male c'è un macello ma neanche 10 più probabile di cosa? ma sì ma ma certo tanto ci staremo almeno 300 ore su fallout 4 10 novembre 11 novembre sì no 10 novembre sì perché era 11 10 10 11 vabbè poi con anche le espansioni di bloodborne andiamo bene i cavalli di skyrim sono meglio di questo gioco ma al case guarda 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 che fa rispondi 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 eh ci stanno un po' di problemi guarda senza a te grazie teschio sì fra perché tu sei un pro perché siete dei pro fra ma senti perché io non ti vedo online vengo a gioinare te scusami o stai giocando su pc sì sono già in partita eh ma voi non ci siete due quelli che hanno insistito c'è l'anguria tu e allora perché ti vedo offline sì ma me lo dà oh cioè ma tutto il mondo sta giocando a sto gioco con intra server cioè non è possibile veramente schifoso c'è qualcuno che sta giocando io ho trovato batti io lupo io ho trovato batti io ho trovato batti Ciao fra ciao fra abbiamo visto ciao anguria senti ciao anche a megarango megarango Fra vai a cercare la partita Che noi gioiniamo Aspetta aspetta Oddio Buon dio Megarango è Chi è Megarango? È uno della chat credo Ma non so come si è entrato però Grande Mera Siamo insieme Com'è? Com'è? Sì sì Ah ok Allora L'uomo è stata Vabbè Vediamo Dove stai? Non sai No ma non siamo Sì io stai un po' Sì 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 Susanna c'è ancora Susanna c'è ancora Non sa dove però Sì Sto facendo join Ma non mi fa entrare lo stesso Sto facendo join con tutti voi Non ti preoccupare Tu mi chiami Kazoo E se è a posto Sì No 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 ma se Se vi confondete Non c'è problema Lo so ma se non funziona Molti Ah questo è Ciao fra Ciao ciao Ecco io sto qui E poi vedete un po' voi Penso che sia più utile Far così Direi proprio di sì Cioè ma Ah no Si è distrutto Che tristezza Perché sono proprietario Dali parti Mi facevano a sapere Che ero lì Mistero della vita Io non so come Beh è già fatto Sentite ma mi spiegate Cos'è questa cosa Del like E' una cosa Di questo gioco E basta Quale è like? Mettono like Sulla chat E mi compare like Anche sullo schermino Mentre gioco E' una cosa Che non ho mai visto Su twitch Non ho idea È la prima volta Sì sono le interazioni Fichissimo Ho usato il pack Come stanno i gatti Stanno a fin troppo bene Si mangiano anche Si mangiano anche Nei miei dolci E saranno buoni Per quei Wuhu Ma oggi a pranzo Volevo ammazzare il gatto Perché l'ho trovato Con la testa Dentro la crema pasticcera Sì infatti Assolutamente schifoso Ho dovuto buttarla via Ma no L'ho buttata via No fortunatamente Era solo Era solo una Come si chiama Era un Una cosa sola Insomma Mio dio Mega Ficcamente È bello Beh Tatooine È bella Mancato Wow Wow Sì teschi Io sono un attimo Nabba Vabbè Ma lo manco Muli invisibili Yeee Che belli Muli invisibili Come faccia Non essere ancora Morta È un mistero Della fede Sì Beh Ma giusto Per vedere Com'era Ma effettivamente Mi sembra Cioè è bellissimo Comunque da vedere C'ha ragione Margheris Sì A me sembra Molto bello Cioè vabbè Che sono abituata Alla grafica Di Bloodborne Però Mi sembra bello Sì No ma io adesso Sono sotto Tatooine Perché lo manco Sempre Oh ecco Ah ragazzi Teschio Oh ecco e che non fa non morire no c'è anche un'era buonasera turin ma cavolo fa cagare a volte fa cagare sempre il matchmaking entrava una partita ma questa casa del pack è bellissima no non ci lasciare sì ma è anche una gran palla c'è anche ragione wow ciao ciao Flavia ciao alla prossima sperando che vada meglio ciao ciao come grafica eh ma appunto eh ma io dicevo questo ma scusami per tre ore ti ho detto che ero tatooine e tu dicevi a la neve a la neve a la neve ma io sono tatooine cioè eh appunto no quello si poi sono anche delle mappe più semplici perché non sono così dettagliate no ma mi piace volare in giro no ma mi piace volare in giro eh ma mi piace volare in giro ah dicono che si sente solo me quando parlo che parlo forte eh ma no dai mi fa male eh ma probabilmente si sente piano no ma dovete comunque dare il permesso per far sentire la vostra cosa agli altri ma mi piace volare in giro è la cosa più bella del gioco ma avete dato il consenso per la voce eh nelle postazioni della chat credo sì 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 no lo so ma bisogna dare il consenso perché comunque c'è la privacy e tutto eh nella chat dove c'è la chat dovrebbero essere delle impostazioni che non so come si fanno a far venire fuori eh tu pensi le parti e consenti la trasmissione della tua voce esatto sì consenti sempre consenti sempre ma dicono che si sente ma bassissimo ehm non so come fare a cambiare queste impostazioni però io ho fatto consenti la trasmissione della tua voce che si fa tagliare la mia mamma consenti sempre no no ma dicono che non ti si sente ho provato ad alzare un po' non so se cambia qualcosa o se è solo una cosa mia comunque più di così non c'è non so esattamente come fare quindi io ho fatto consenti sempre adesso non mi sento no ma dicono che si sente ma piano è un problema di trasmissione adesso è un problema di trasmissione adesso dice si sente più alto ring figlio di uling mazza che un ufo non fanno il signore di anelli ma se riuscissi a sparagli ogni tanto è che queste bombette fanno cagare dice che adesso ti sentiamo ma non so se a te ce l'hanno con te o anche con me che dicono che sento ancora allora nel singolo ci sono 15 orde e tutti nemici cose del genere quindi queste sono proprio spara mi dai eh dove sei? però niente adesso prova a fare prova a fare un multiplayer vediamo se mi fa entrare vai vai qualcuno di voi in partita? tutti no eh sì io e il dottore io e il dottore B adesso li provo mi dice there is a Queue you are player number three of three in the Queue quindi vuol dire che ci sono tre persone in fila? sì Taurin dice tutte e due si sentono adesso ma siamo in tre raga Taurin Taurin ho vinto vabbè comunque ci sentono perché sì perché ho alzato un pochino le impostazioni non so esattamente quanto cambi però ho alzato al massimo la chat così vi si sente un po' di più allora vediamo vabbè non è male qui ma era sempre ultimo sì vabbè ma non è possibile cioè io mi sto anche scassando ma cazzo a parte che mi lagga mi si sforza il personaggio e poi dovevo non è questo sì sì si Taurin ci sono Luca e Doc e Doc non mi sento sì sì non mi va non mi funziona non c'è nessuno non c'è nessuno mi sento anch'io su Tui nessuno qui è la voce del cazzo state buoni a parte me io so davvero la voce del cazzo ma è quella che ho sono nato così non ci posso fare niente a me non sembra una voce del cazzo mi sembra una voce normalissima è normale sì sai che voce fida quella di Stefano Brocchieri un po' di raffreddore provocato dall'assenza di server in questo gioco che mi fa venire l'allergia vediamo allora ma se usciamo tutti e proviamo no no per carità non uscite cioè se state in partita non uscite cioè io non riesco a entrare neanche a pagarlo siamo tre siamo tre siamo due in partita vediamo se si unisce lei ma se usciamo noi due sono sicuro che io non riesco più a entrare o se entro entro tipo a luna di notte e la gente le va a letto lui stare anche qua a giocare mettiamo tre di noi e luna ma è dalle quattro tutti i giocoli provo a vedere se no vabbè se vuoi uscire però secondo me rischiamo ma scusatemi ma mi sapete dire se è piena la cosa che cosa la vostra partita cioè è in full ma ma no sui riporti no sui ribelli no è vuoto in teoria se entri ti mette tra i ribelli ma mi dice che c'è una quewe che sto litigando con un'altra persona per entrare cioè non so che senso possa avere se ci sono così tanti posti due libri cos'è che ti dice non so cos'è questa cosa mi dice zeriza quewe quewe vuol dire conflitto non so qualche cosa del genere che io sono sono esci e rientra fa così a volte fa anche che non cerca dice che cerca ma non sta cercando basta uscire rientrare che palle però eh big boss eh sì è brocchiero io l'ho letto che era vostro avversatore anche simone dai simone quale simone marcotti quello di cremona sai che non mi viene non mi viene in mente chi è ma è di multiplayer era almeno così mi hanno detto mi viene in mente no non mi viene in mente no per me stessano doppierà voce figa veramente che potrebbe fare un uomo Vin Diesel potrebbe fare non è così profonda cioè però potrebbe fare qualcosa secondo me mi ricorda tanto i periodi ad Assassin's Creed Black Flag dove mi facevo tre quarti d'ora di attesa per una partita comunque a me non ti ha cresito rada non lo so ci avevo avuto i suoi problemi però a me è piaciuto più quello lì di Black Flag sono in coda ma in coda sto cazzo eh sì Queway dice che sono in coda vuol dire ma vabbè qui mi dice direttura cercando cioè dovesse entrare va bene come gioco però lagga di più rispetto a pomeriggio mi vedi a me no aspetta mi vedete mi vedete in partita no ad hoc è uscito ma che succede ragazzi mi state prendendo per il culo cos'è caduta anche la chat oh ma che succede ragazzi c'è space floating del mondo qui e tu è bello Black Flag però il multiplayer è scassatissimo ma che succede alla chat ragazzi è uscito dal party ma che è successo ok mi sentite raga sì 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 io ti sento eh ma ma escluso dal party l'ha fatto come ieri che ero in diretta sul multiplayer ma escluso dal party grandioso l'ha fatto anche ieri con Slayer stavo giocando eh sei stato escluso dal party lui mi mandava gli inviti però mi diceva non ti è consentito unirti non ci credevano in chat però è vero ha problemi ha problemi la chat ma si ha problemi tutto stasera sinceramente no veramente la chat su playstation io dall'altro ieri ho problemi sono andato a vedere sulle varie e la gente dice che ha problemi infatti quindi è proprio un problema di sogni relativi si vede sì teschio è molto bello Black Flag perché ci sono le battaglie navali è la cosa più bella Taurina il tuo primo cibo a me mi fa cagare perfetto è unico che non mi piace beh allora è anche un culo oggettivamente ci sta però insomma è quello che ha meno lo spirito secondo me di Assassin's Creed non è raga quello è sicuro è per quello che è bello ah dici il migliore rimane il 2 secondo me raga cioè Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 1 o io ci metterei gli uniti al terzo posto raga a me è piaciuto e poi il 3 però boh poi c'è cosa c'è di Assassin's Creed eh brava quello lì troppo non mi piace Ezio eh sì esatto no no nel senso non lui come si chiama il gioco intendevo mi veniva ah il titolo ancora ma raga cosa sta succedendo gente che entra e c'entra la verità sì vabbè ma c'è ma no ma anche ti dico io aspetto solo che facciano un Assassin's Creed con una trama e dei personaggi che siano carismatici perché io ancora non li ho visti nessuno dei due cioè nella trama dei personaggi carismatici cioè perché Ezio a me non ha mai detto niente con tutto rispetto Altair ci prova ma cioè vabbè ma anche anche dire qual è la storia di Assassin's Creed 2 cioè tu saresti in grado di riassumermi qual è la storia di Assassin's Creed 2 cioè non c'è storia in questi giochi qui c'è lui che ammazza della gente che non ci si ricorda neanche chi è ragazzi senza spoiler la storia di Assassin's Creed 2 è che lui deve trovare la mela degli Eden basta sì vabbè ma ti conviene entrare senza parti dice Teschio eh ma ci provo cioè sto provando anche a fare i3 Sky che ti fa una domanda ti dice eh ma aspetta che te lo leggo ma su Black Flag ci sono anche i combattimenti in mare sì sì no ma gli ho risposto gli ho detto sì 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 ci sono le battaglie navali no no è molto bello da quel punto di vista ecco io raga io non gioco la beta io rispondo la chat più bella perché mi gagga cioè io sono crashato cioè io infatti faccio cagliare perché non sto cioè eh ma il case non so a me è piaciuto più voglio la mela è mia non tua dammi la mela per tre ore Big Boss ha citato la mia parte preferita di Assassin's Creed Brotherhood dove c'è dove c'è come si chiama Cesare Borgia che litiga con sua sorella come si Lucrezia Borgia per la mela dice dammi la mela è mia non tua dammi la mela no è bellissimo ma non per questo ma perché se tu resti lì appeso senza fare niente loro ripetono sempre lo stesso dialogo e ripetizione è una cosa che fa crepare da ridere insieme al fatto che puoi puoi uccidere la gente a calci nelle palle che è la cosa preferita dal mio fratello di sempre perché si diverte un mondo è bellissimo ah è andato via ah c'è l'USD è andato via andò a parte che dice che c'è un problema no è tornato mi raccrescia la chat buon dio sti server porca puttana boia io non sono ancora riuscita a fare una partita una in 48 minuti cioè entro l'ora io me ne vado no non funziona non riesco a entrare da nessuno ma hai trovato a uscire e rientrare proprio dal menù proprio dal menù hai trovato a fare back back indietro sì 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 tutto al massimo sono andata indietro al massimo e poi ho incominciato io ho aspettato 40 minuti per entrare se non di più io 20 ma di orologio ragazzi io qui c'ho il timer dice 48 minuti ho fatto una partita in singola e basta cioè non so adesso arrivo all'ora e poi cambio gioco perché non posso rimanere qui a qualcosa che giro no e fai quando ti fa vedi che tu stai cercando ti fa 75% full se quando te lo fa esci e rientra perché ti deve fare ti devi fare tipo un giocatore su uno o quella roba adesso non ricordo se c'è scritto però quando fa così esci che è inutile sì sì no ma l'ho fatto ma non vabbè a Mr. Mutley no non ho mai fatto nessun podcast ho un canale youtube su youtube su twitch stavo per dire un canale youtube su twitch c'è il link per andarci il mio link è youtube mi trovate però non ho fatto nessun podcast ho fatto solo live più o meno live di twitch e basta comunque grazie che lad non so come fai a dire che sono forte visto che non ho giocato per niente però grazie kazuha quando fa searching così levalo che non conviene niente deve proprio farti il numerino tipo segnarti ma finché fa così poi rimani lì a perdere tempo lo so sai join game switcha tra tutti noi quando a quel punto cerca e dopo un po' fa ricerca giocatori in attesa uno su uno uno su due allora lì aspetta che poi alla fine entri ma se fai così non entri più è fake è una ricerca affannata sì ma grazie a Turin che ha messo il link di che cosa? ah ecco del mio canale Somari iscrivetevi tutti invece di fare tanti saccenti ah io youtube mi diceva no raga non mi iscriviti sì sì ridi ridi dove sei dottore? dottore dove sei? ah ma siamo in squadra insieme ma io manco sto guardando il gioco bravo prova a restattare sparo ma se mi capita sotto a fiume oh ci sono grande forse ah ok adesso non la guardo più dove sei? ma sei riuscito a entrare? non lo so cioè praticamente non esisto e sono su Endor che è una mappa che non esiste sì vabbè ma è la presa per il culo no sei ancora cercando ti vedo io da qua no ma è un po' indietro quello che vedi su Twitch sì vabbè ma che cioè dai no veramente no è la presa per il culo no se sei su una mappa che non esiste vuol dire che ne hanno aggiunte altre no non esiste perché non funziona vedi cioè mi si è mi ha crashato vediamo no no che adesso ah no già che sta indietro e mi ha detto che c'è sì perché se no vedi ti aveva eh sì si è laggato il culo ho visto ho visto sì cioè veramente boss cioè su serio che dice vediamo no vabbè io aspetto l'ora tempo trascorso un'ora e poi me ne vado perché non è possibile alimentato da cricetti su delle ruote probabile probabile no poi cioè stacco e vado non so a fare la demo di uncharted qualsiasi cosa perché non è possibile ma la demo di uncharted dura tipo due minuti non si hai già scaricata sì 17 minuti dura cioè ma mi manda su endor ma è una presa per il culo cioè ma su serio cioè mi mandano su una mappa che non esiste nella beta e poi mi crasha il gioco cioè ma è una presa per il culo cioè veramente non ha veramente parole non è che era giocabile tipo pomeriggio vediamo eh devi tentare un po' così io ho dovuto anche chiudere il gioco e di aprile se ti continua a fare che c'è la motley è tutto un caso orta puttana ladra ah ok adesso che è finita la partita kazoo adesso che è finita la partita prova a a svucciare su me e dr.w a fare join the game che magari esci perché adesso è finita la partita sì adesso adesso join da fuori però mi dice searching vabbè aspetta non adesso allora aspetto che fa sta cosa kazoo intanto che fa sta cosa esci fai back sì sì sono fuori sono fuori ok quando inizia la partita te lo dico e provi a cambiare fai prima su di me ok sì non togliere subito perché ci vuole un po' quindi anche se switchi entri con join the game aspetta un pochino ok perché comunque è lunga come cosa purtroppo è così cioè il bello è che sotto mi è comparsa la scritta preorder deluxe edition ma nel culo proprio te lo impiro la deluxe edition fai dove ti metto la deluxe edition ma il case dice perché non fai dragon age è bella domanda perché me lo voglio tenere ancora un pochino lì perché se comincio dragon age adesso col cavolo che faccio altro devo fare tutto il backlog che c'ho prima cioè ma poi perché c'è la novità raga sta cosa no più che altro più che altro è che ho un sacco di backlog proprio una quantità infinita ok vado vado join io ti vedo già dentro dai sei già dentro ti vedo è impossibile ti vedo in vista io non vedo neanche dottor v dove cazzo è dottor v ah eccolo dottor v ci sono ci sono eh ma ho l'edizione normale teschio non ho la deluxe adesso è proprio il momento di purtroppo ecco vediamo stai facendo il coso per zua sì ok purtroppo ci vuole tanta pazienza ma cavolo no non ci vuole tanta pazienza è un gioco dio santo cioè non è non è un parto per il parto ci vuole la pazienza non per il gioco cioè a meno che tu non stia facendo dark souls e il parto ci vuole coraggio ci vuole pazienza ci vuole anche pazienza ci vuole anche il gioco vabbè è più bello così divertente ma è uno spasso guardare la rotellina gialla che gira è la rotellina gialla più bella che abbia mai visto tra l'altro la rotellina gialla gira a 60 fps hai visto? sì sì ah è meglio tanto a più guarda mi è esploso il gioco cioè su serio che mi è comparsa la scritta Star Wars Battlefront con le navicelle che passano è perché quando cerchi troppo quando cerchi troppo nella lobby fa così perché vuol dire che non è riuscito a connettersi in pratica grazie gioco per avermi fatto capire che non riesci a connetterti sì quando fa così perché è inutile è come se ti dicesse tipo sono riuscito è come il salvaschermo con i tubi presente il salvaschermo con i tubi in Windows 98 che c'erano i tubi colorati ma è talmente ma è talmente stufato quella home screen con la schermata di caricamento che se deve uscire il caricamento il tema dinamico gratuito ma anche lo scarico dovrà uscire sulle stelle oh dio ovviamente che l'ho visto abbastanza ciao 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 e anche tu eh sì c'ha ragione quindi siamo solo io e ah no ah no pensavo che era dottor V ma l'ho capito no 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 ah grande dottor V infatti dicevo che è comunque quando aspetti tantissimo Kazuha esci perché non fa niente grande grande turin tra poco tra poco ti spuntano pure la scritta ma ancora qua stai cioè io veramente mi sto grattando i piedi cioè sto facendo yoga proprio il mondo sto vedendo che ti fa searching così ma non vai da nessuna eh lo so ma è che ti devo dire mi fa così sempre cioè no devi beccare quando fa proprio uno scritto proprio in niente uno tu due piuttosto che uno perché sì ma prima me lo faceva ma mi è comparsa la scritta battlefront cioè perché perché è esploso è esploso il gioco esatto però devi fare proprio quella cosa lì devi aspettare che ti dice quello perché se aspetti la scritta che fa solo così non te la fai più devi proprio aspettare quello prova e riprova non sento lì anche io ho fatto così poi quando è compasso tipo uno tu one to one così ho aspettato sì ma poi quando fa cioè quando mi arriva alla fine mi compare Endor ecco tipo adesso che mi sta mandando su Endor di nuovo cioè ma sparati è bagato è bagato è bagato la grande cioè mi manda su Endor veramente cioè allora guardate io è un'ora che sto aspettando adesso stacco vado a farmi qualche cos'altro perché mi sono rotta le palle e speriamo che domani funzioni meglio c'è Taurin che va a prendere il gelato dopo magari lo fai scongelare se lo deve mangiare da solo no no beh adesso aspettiamo che mangi il gelato adesso sta io stacco e poi raffresciatevi ritrovate ciao Siegfried non lo so io non sono di Modena eh stacchi e ritorni dopo no stacco e cambio gioco perché mi sono rotta di stacqui cioè scusatemi cioè che cosa devo fare vabbè dai proviamo domani cioè domani riproverò che cosa vi devo dire io stacco se raffresciatemi trovate su un altro gioco che adesso scelgo proprio adesso? proprio adesso sì è un'ora che sto aspettando mi sono rotta le palle eh sì ah raffresciate che io cambio a dopo